Oltre 11 milioni di documenti fatti trapelare da un noto studio legale Panamense, è una fuga di informazioni senza precedenti sulle modalità attuate dagli uomini più ricchi al mondo per evadere le tasse ricorrendo all'utilizzo di società offshore e paradisi fiscali. Ne parliamo con Carl Dolan di Transparency International. Queste rivelazioni ne giungono davvero come una novità? Per chi si occupa di anticorruzione, assolutamente no. Di solito, seguendo la traccia lasciata dal denaro, si arriva a un punto cieco e si tratta sempre di una società anonima, di solito registrata in base a legislazioni basate su regimi di segretezza e con sede in uno dei tanti paradisi fiscali del mondo. È sempre lo stesso meccanismo, sia che si indaghi il comportamento di un ministro nigeriano corrotto, quello di oligarchi ucraini o russi o quello di alcune organizzazioni criminali. Si tratta di buone notizie per la lotta contro il riciclaggio di denaro, contro l'evasione e la corruzione? Ora si assisterà, come sempre accade in questo tipo di casi, ad una serie di condanne e di strette di mano tra i vari governi nazionali. Abbiamo già assistito a questo tipo di reazioni in passato. È già successo con gli offshore leaks e poi con gli lux leaks. E dietro le parole ci sono state poche riforme concrete. In breve, cosa chiederebbe ai leader europei? Cosa dovrebbe accadere adesso? Per prima cosa si deve rendere immediatamente pubblico il registro dei soggetti coinvolti nelle società offshore, è una cosa molto semplice, potrebbe essere fatta subito. Una volta fatto questo, i governi avrebbero l'autorità e anche l'esperienza data per andare dai governi dei cosiddetti paradisi fiscali e dire O voi condividete con noi queste informazioni e le rendete pubbliche oppure procediamo con l'applicazione di sanzioni economiche nelle relazioni tra il nostro e il vostro paese. Al momento nei documenti pubblicati non sembra esserci nessun nome statunitense. Questo significa che la lotta contro il riciclaggio di denaro e contro la corruzione è più efficace negli Stati Uniti? In realtà temo che la ragione vada cercata nelle legislazioni adottate da alcuni Stati americani, tra le più propense alla segretezza. In Stati come il Delaware, il Nevada o il Wyoming è molto semplice registrare società dove nascondere i profitti di qualunque tipo di attività criminale.